Niente, io vorrei dire che probabilmente per tutti coloro che non sono aquilani, questa rasseggiata, questa rasseggiata, non dico una sconsata, ma una cosa del genere, siamo venuti a qualche tempo, però io ci tenevo, insomma, faccio un giro per tutti voi, perché, non ci vedete, ma tutti gli aquilani soffrono. Cioè, questa è una malattia che ci è venuta il 6 aprile del 2009. È una brutta malattia, che non è che passa così facilmente e non ci sta notte forse che ognuno di noi non ci ripensa. Abbiamo perso gli amici, abbiamo perso i correnti, abbiamo perso tante persone care. Quando io vi dico che se io sto a fare qualche cosa per l'Aquila, e parlo dell'Aquila Caccio, è perché dentro di me c'è talmente tanta voglia di dare qualche cosa che si è perso, qualche cosa che non abbiamo più, e voi l'avete visto, no? Voi venite da tante parti d'Italia e vi rendete conto che quello che è successo, in parte, ve ne avete visto. Ormai la ricostruzione è partita, però ancora non ci abbiamo niente, non ce l'avremo per i prossimi anni. Tutti i nostri concittadini, tutti coloro che abitavano in queste zone, che adesso sono fuori, con ferie, ancora stanno in casa in affitto, queste new town che sono state creando, stanno perdendo il senso e la ragione, stanno perdendo quello che era il territorio. Noi glielo volevamo restituire con l'Aquila Caccio. Non perché l'Aquila Caccio possa fare l'Irago, non ci dà la città, perché l'Irago, però ci dà la voglia di combattere, la voglia di lottare. A me mi dà ogni volta che adesso mi vedi in campo, è come una rivalza contro qualcuno che dalla sua ha creato un futuro. Forse per la sicurezza, non ci sono le idee chiare, perché a volte è brutto, hanno perdito tante cose, rendi conto che poi alla fine non c'è più una stabilità. Per quello io vi invito. Oggi è stata una passeggiata, vi volevo... ho cercato, perché non poi magari non si può riuscire a farvi capire quanta sofferenza in tutti gli Aguilani e in me c'è. Quindi voi adesso rappresentate questo progetto, rappresentate qualche cosa, una rivalza, una risarcitoria nei confronti di qualcuno che ci ha levato la cosa più bella che ci ha levato. Quindi io vi invito, no, a riprendere un attimo in mano la situazione. Noi l'abbiamo persa, no? Non si sa per chi. Voi siete... noi siamo la squadra più forte del campionato. Io di questo ne so convinto. L'abbiamo dimasciato con le partite più importanti. Riprendiamo in mano la situazione. Riprendiamo la serenità. Rilavoriamo tutti insieme. Io non mi staccherò più da voi. qualsiasi cosa dovrebbe succedere, qualsiasi cosa voi avete... avete problemi, io so presento. Quindi a questo punto dobbiamo soltanto capire se abbiamo sbagliato in qualcosa. Non lo dobbiamo nemmeno dire. Se abbiamo sbagliato da soli, dobbiamo correre. Dobbiamo ritornare a pensare positivo e dobbiamo ridare una nuova vita. dalla vita calcio e di conseguenza. Lascia perdere serie B, non serie B. Siamo noi stessi. E quello ci potrà, secondo me, a riportare il risultato, riportare la voglia di vincere, l'orgoglio, l'umiltà. E tutto quello che c'è bisogno, una squadra vera, per affrontare un campionato che sta diventando poco di vincere. Se la colpa è la mia, io tutte le responsabilità me le prendo. Se la colpa è del mister, io penso che lui faccia questa cosa. Se è colpa vostra, fatele pure voi queste considerazioni. E pensate che dire a tutto questo, quello che avete visto, per noi è fondamentale. Aiutatevi. E' una prevedere. Grazie. Grazie.